Buongiorno, non è andava sto coso! Sembra il gruppo con i miei mici quando sono io! No, ma c'è una sopra il gioco, adesso è proprio il polentone! E io gli dico, no, Tommy, non è il gioco! Arriviamo a quasi 2003, saliamo di 100-100! Chiudi la porta! Eh, quella chiudo io, vero? 800 saliamo! Ma che ne so! Fista che ha la chiusatura! Eh, non si può fumare qua dentro, no! Ah, si può fumare qua dentro! Ah, si può fumare! 10 minuti! 800 metri, ma no! Bella, siamo tutti pronti! Eeeh! Pronti, pronti! Siamo a Salenza! E' l'incaricato, questa qui è l'incaricato! Cioè, sono così vicine! Cosa dice qua? Ehi, pista blu! Se li voglio solo, te li chiedo! Ma se non è di sola, eh! Ah, senti com'è bella morbida! Esatto! Zaaah, che bellissimo! Mancio, Thompson, Fabiolin, Zaccarin! E' parvi! E' parvi! c'è ma quindi vuoi mettere sta bellezza facciamo l'azzurro dai che davanti ha sempre ragione ma non vale a regola della destra buona 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 vai vai mancius vai mancius vai che ti seguo buona oh oh buona 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 guarda che carbo uno sciatore visto guarda andare a scuola mentre gli altri lavorano che fidata andremo lì sole fighissima eccolo ecco lì palla palla